La predicazione di Pietro La predicazione di Pietro, il giorno di Pentecoste, fa trafiggere il cuore della gente. Quello che voi avete è crucifisso e risorto. A dire queste percorse si sentirono trafiggere il cuore. E dissero a Pietro e agli altri apostoli, che cosa dobbiamo fare? E Pietro è chiaro, convertitevi. Convertitevi. Cambiare vita. Voi che avete ricevuto la promessa di Dio e voi che vi siete allontanati dalla legge di Dio tra tante cose vostre, tra idoli, tante cose, convertitevi. Tornate alla fedeltà. Convertirsi in questo. Tornare ad essere fedeli. La fedeltà. Quell'atteggiamento umano che non è tanto comune nella vita della gente, nella nostra vita. sempre ci sono delle illusioni che attirano l'attenzione e tante volte noi vogliamo andare dietro queste illusioni. La fedeltà. Nei tempi buoni e nei tempi brutti. c'è un passo del secondo libro delle croniche che a me colpisce tanto è nel capitolo do decimo all'inizio. quando il regno fu consolidato quando il regno fu consolidato il re Roboammo si sentì sicuro e si allontanò dalla legge del Signore e tutto Israele lo seguì. Così dice la Bibbia. è un fatto storico ma è un fatto universale. Tante volte quando noi ci sentiamo sicuri incominciamo a fare i nostri progetti e ci allontaniamo lentamente dal Signore. Non rimaniamo nella fedeltà. e la sicurezza mia non è quella che mi dà il Signore. È un idolo. È questo che è accaduto al Roboammo e al popolo di Israele. Si sentì sicuro il regno consolidato si allontanò dalla legge e cominciò a dare colto alle idoli. sì possiamo dire no padre io no non mi inginocchio davanti alle idoli. Forse non ti inginocchi ma che tu li cerchi e tante volte nel tuo cuore adori gli idoli lì è vero tante volte la propria sicurezza apre la porta agli idoli ma è cattiva la propria sicurezza? No è una grazia essere sicuro ma essere sicuro anche che il Signore è con me ma quando c'è la sicurezza e io al centro e mi allontano dal Signore come il re Roboammo divengo infedele. è tanto difficile conservare la fedeltà tutta la storia di Israele e poi tutta la storia della Chiesa è piena di infedeltà piena piena di egoismi di proprie sicurezze che fanno che il popolo di Dio si allontani dal Signore perda quella fedeltà la grazia della fedeltà e anche fra noi fra le persone la fedeltà non è una virtù a buon mercato certamente uno non è fedele all'altro all'altro convertitevi tornate alla fedeltà al Signore e nel Vangelo l'icona della fedeltà quella donna fedele che non aveva dimenticato mai tutto quello che il Signore aveva fatto per lei era lì fedele davanti all'impossibile davanti alla tragedia una fedeltà che la fa pensare che è capace di portare il corpo un'altra volta una donna una donna debole ma fedele l'icona della fedeltà di questa Maria di Madal apostola delle apostoli chiediamo chiediamo oggi al Signore la grazia della fedeltà di ringraziare quando Lui ci dà sicurezza ma mai pensare che sono le mie sicurezze e sempre guardare oltre le proprie sicurezze la grazia di essere fedeli anche davanti ai sepolcri davanti al crollo di tante illusioni la fedeltà che rimane sempre ma non è facile mantenerla che sia Lui il Signore a custodirla la fedeltà